Tutto nasce dall'idea di quest'uomo, Guido Van Rosum, programmatore olandese che voleva fare un progetto per non annoiarsi durante le vacanze di Natale dell'89. Ma procediamo con ordine. Allora, pinguine, quando ho registrato questo video io non mi sono dimenticato di settare la messa a fuoco della telecamera e quindi sarà sfocato. Quindi, se voi portate gli occhiali e vi accorgete di vederci male non vi preoccupate, è sfocato. Scusatevi per questa cosa, purtroppo non ho il tempo di rigirarlo e adesso, consci di questa cosa, vi lascio di un nuovo video. Godetelo, ciao pinguini! Avete già detto dal titolo, oggi parliamo della storia di Python, come è nato, come si è evoluto e come è stato ricevuto dalla comunità sia di programmatore che di ricercatori. In principio c'era ABC, linguaggio di programmazione sviluppato dal Centrum Viscunde Informatica, che io semplicemente chiamerò CWI, che dall'olandese significa Centro per la Matematica e l'Informatica, chiarissimo dal nome, che si trovava ad Amsterdam, che era un centro di ricerca che, appunto, come dice il nome, si focalizzava sulla ricerca di matematica e informatica teorica. Questo linguaggio di programmazione ABC era molto simpatico. Aveva come obiettivo quello di essere semplice e di sostituire quelle applicazioni in cui Basic o Pascal venivano utilizzati. Con ABC potevi fare un sacco di cose e le cose che potevi fare avevi uno script con il 75% di codice in meno rispetto a programmi fatti in C o Pascal. Figo! Mentre il nostro simpaticone si trovava a lavorare presso la CWI, gli venne in mente questa idea. Prende il meglio di ABC, poi prese la gestione delle eccezioni, il garbage collector, tutto questo condito con zucchero, cannella e ogni cosa bella, e boom! Nel 91 venne rilasciata la prima versione di Python. Ora, tralasciando i dettagli implementativi di Python, di cui magari ve ne parlerò in un altro video, quando Guido sviluppò la prima versione, lo va a scrivere su alt.source, che era un newsgroup che si trovava su Usenet, che era utilizzato da programmatori per scambiarsi informazioni e codice, dicendo che aveva sviluppato questo linguaggio di programmazione e portando anche qualche esempio. E cosa accadde dopo quell'evento? È storia. Ma lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benotri pinguini in questo nuovo episodio di FK è storia. Io sono Valerio e oggi parliamo della storia di Python, ma prima di continuare con la storia di questo simpaticissimo linguaggio di programmazione, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli attività che porto su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram. Qui sotto troverete sia il mio tag, il mio handle di YouTube, dove porto sempre delle storie in cui do delle piccole anticipazioni di video che poi alla fine spuntano su questo canale. E quindi, basta con le ciance e proseguiamo con la storia di Python. Ma perché si chiama Python? Cioè, perché Python? Perché si chiama Pitone? In realtà il nome non viene dal serpente, anche se il logo lo dimostrerebbe. Guido Van Rosum era un fan svegatato dei Monty Python. Una sorta di premia da ditta britannica che sicuramente quelle della mia età conosceranno, anche se io devo dire di non essere un gran fan. Però comunque, anche se l'episodio del Ministro of Silly Walks mi fa sbarellare. E quindi, siccome lui era un fan svegatato dei Monty Python, semplicemente decise di chiamare il suo linguaggio di programmazione Python. Allora, adesso io vi chiederò per la prima volta in tutti i miei video, che già sono quasi 100 video, di seguirmi con attenzione. Perché la storia di Python è molto ingarbugliata. Non tanto perché è complicata, ma perché alcuni degli eventi di cui vi andrò a parlare, succedono in parallelo. Ed è difficile parlare di cose in parallelo in un video lineare. Quindi, vi devo chiedere di seguirmi con attenzione. Quando voi, in questo momento, non potete prestare il 100% della vostra attenzione, nessun problema, non si offende nessuno. Mettete in pausa e ritornate quando potete prestare il 100% del vostro tempo. A metà degli anni 90, Guido si sposta a lavorare in America. In particolare al CNRI, che sta per Cooperation for National Research Initiatives, che si trova nello stadio della Virginia. Guido continuò a sviluppare Python e a lasciare delle nuove versioni. Nel frattempo, Guido lanciò l'iniziativa Computer Programming for Everyone, che era un progetto per portare quello che loro definiscono Programming Literacy a tutti quanti, in modo tale che tutti potessero imparare a programmare. E Python, vista la semplicità nell'apprenderlo, avrebbe avuto un ruolo fondamentale in questo progetto. Progetto che fu avviato, ma poi fu sospeso, e adesso non se ne parla più fondamentalmente. Nel 2000, il sviluppatore principale di Python, quello che viene chiamato il Core Development Team, se ne va a lavorare presso la BeOpen.com, che era una start-up, e lo sviluppo di Python venne supervisionato da un ex studente Google, Dominic Merenda. Sì, si chiama così. Mentre tutti si trovavano alla BeOpen.com, rilasciarono la versione di Python 2.0. Ma, proprio in quell'anno, l'azienda collassò e quindi tutti si dovessero andare. Se ne andarono alla Digital Creation, che poi cambia il nome in Zop, Zopi, non so come si pronuncia, ma quella è un'altra storia adesso, dobbiamo fare un passo indietro. Quando Guido se ne andò dal CNRai, il CNRai non rinunciò a Python, e infatti loro continuarono a svilupparlo e rilasciarono una versione di Python 1.6, che poiché andava in parallelo con quella rilasciata da Guido e gli altri del 2000, che era già la versione 2 per loro, c'erano infatti delle funzionalità che si sovrapponevano. Quando il CNRai rilasciò la versione 1.6, aggiunse una clausa alla licenza che diceva che quella licenza era soggetta alle leggi dello Stato della Virginia, ma questa andava in contrasto con la licenza GPL della GNU, che praticamente alla fine trovarono un accordo in cui dopo la CNRai rilasciò un'altra versione di Python chiamata 1.6.1, che risolveva qualche piccolo bug, ma che aveva una licenza compatibile con quella GPL, ma lo sappiamo tutti che le licenze sono robe complicate e io stesso non sono un avvocato, ma tuttavia ne ho parlato in questo video, che magari ve lo potete recuperare. Non è dettagliato, dà semplicemente una panoramica generale che comunque potrebbe servirvi. Ritorniamo a Guido e quando andò a lavorare per la Digital Creation, nel 2003 si andò all'Elemental Security, poi si andò a lavorare da Google nel 2005, che restò fino al 2013 per poi andare a lavorare da Dropbox, e poi si andò in pensione nel 2019, per poi ritornare a lavorare nel 2020 per Microsoft con il titolo di Distinguished Engineer. Ingegnere distinto? Qualcosa di questo tipo. Nei paesi anglofoni utilizzare questi titoli è una roba molto comune. Quando Guido cambiava lavoro, in ogni caso, Python continuava a essere sviluppato e come accade in molti progetti open source, perché già c'era una comunità dietro agli sviluppatori, diverse versioni di Python proseguono in parallelo. Infatti, quando c'era la versione 2.5, si iniziò a sviluppare la versione 3. E quando uscì la versione 3.0, uscì in concomitanza la versione 2.6. Stessa cosa quando uscì la versione 3.1, uscì la versione 2.7. E le versioni 2.6 e 2.7 contenevano delle caratteristiche che erano anche presenti nella versione 3. Qualcuno potrebbe dire, ma perché continuare in parallelo queste due versioni di Python? Il motivo è che Python 3 non era retrocompatibile. Questa cosa significa che codice sviluppato per Python fino a quel momento non sarebbe stato più eseguibile in Python 3.0. E quindi, bisognava dare il tempo agli sviluppatori di andare da Python 2 a Python 3.0. E lo sviluppo di Python 3 con le versioni successivi. Adesso, se non ricordo male, siamo arrivati alla versione 3.11. E la prossima versione di essere lasciata sarà la 3.12. Una cosa bella da sapere è che lo sviluppo di Python è guidato da 12 principi fondamentali che adesso vi andrò a leggere e ovviamente li ho tradotti dall'inglese. Alcuni di questi principi vanno letti basandosi su quello che si dice prima. Però, sono sempre 19. Dunque, adesso vado a leggerli. Bello è meglio di brutto e ovviamente si riferisce al codice e non alle persone. Esplicito è meglio di implicito. Semplice è meglio di complesso. Complesso è meglio di complicato. Piatto è meglio di annidato. Sparso è meglio di denso. La leggibilità conta. I casi speciali non sono speciali abbastanza per l'infrancio da regole benché e questo infatti si collega al principio precedente la precisità batte la purezza. Gli errori non dovrebbero mai passare in silenzio a meno che vengano esplicitamente fatti tacere. Alla faccia dell'ambiguità rifiuta la tentazione di indovinare. Penso che questo si aggancia al principio in cui dice che esplicito è meglio di implicito. Ci dovrebbe essere uno e preferibilmente uno soltanto modo ovvio di fare le cose. Benché il modo potrebbe non essere ovvio all'inizio a meno che tu non sia olandese. Adesso è meglio che mai? Benché mai è spesso meglio di immediatamente. Se l'implementazione è difficile da spiegare allora è una pessima idea se l'implementazione è faglia da spiegare allora può essere una buona idea. I namespades sono bellissimi facciamo degli altri. È possibile leggere tutti questi principi all'interno di Python importando il pacchetto this. Quando Python prese piede e una comunità di sviluppatori iniziarono a contribuire per lo sviluppo di Python Guido non vanorosum venne intitolato come il Benevolent Dictator for Life ovvero il Dittatore Benevolo per la vita che è un titolo che è stato affibbiato dagli altri sviluppatori in modo da dire che quando c'era un problema o una disputa su cosa implementare in future versioni di Python Guido comunque avrebbe avuto l'ultima parola. Nel 2018 lui rimette l'incarico da Benevolo Dictator for Life e non ha nominato un successore quindi da quel momento nessuno è diventato un BDFL Ora una domanda che molti potrebbero farmi è la seguente perché Python è così importante a giorni d'oggi perché è così utilizzato beh i motivi sono tantissimi e magari farò un video specifico di FK Under The Hood qui noi parliamo della storia ma riassumendo Python è facile da imparare è flessibile e per questi motivi è molto utilizzato in ambito accademico ma questo non vuol dire che le aziende non cercano programmatori Python anzi li cercano pagando stipendi annui che arrivano a 6 cifre ma perché non vado a lavorare per una grossa azienda allora ed è usato tantissimo in machine learning e nell'ambito di esistenza artificiale ora queste due comunità in passato utilizzavano altri linguaggi di programmazione tipo R o MATLAB però per esempio MATLAB non è gratuito bisogna pagarlo e quando Python presse piede molti programmatori me compreso si sono spostati su Python perché era gratuito e c'è una comunità alle spalle enorme che produce sempre più librerie per espandere le funzionalità ci sarebbero tante altre cose da dire su Python o Pinguini ma mi sa che per oggi mi fermo qua le vacanze di Natale stanno per arrivare e magari chissà tra di voi ci sarà il prossimo Guido Van Rosum che non avrà nulla da fare e si tipicherà in quelle due settimane a qualche progetto che magari chissà potrebbe diventare qualcosa di grandioso come fu Python 30 anni fa e quindi come al solito io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima ciao Kilo 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 Kilo